Petrinei Meridionali è una società per azioni e ha come oggetto la fabbricazione e la produzione di contenitori in vetro per il settore alimentare. Lo stabilimento produce circa 800 milioni di pezzi di articoli nell'anno e ha un fatturato di circa 70 milioni di euro e con gli investimenti insomma che abbiamo in programma l'obiettivo è chiaramente quello di migliorarsi anche da questo punto di vista. Per quanto riguarda la sostenibilità ambientale tanto si è fatto in termini anche di investimento negli ultimi anni a partire dal 2017. Il progetto Virgo è l'idea del progetto del nostro nuovo forno, il nuovo forno finanziato dalla Cassa Depositi e Prestiti. Nel nuovo progetto la tensione si sposterà sulla componente CO2 perfettamente allineati con quello che è appunto l'obiettivo 2030 di ricerca di percorsi di decarbonizzazione del nostro processo produttivo. Cassa Depositi e Prestiti è affiancato da subito attraverso appunto la solidità di un finanziamento così importante per la realizzazione interamente del nostro impianto forno fusori. Avere un partner come Cassa Depositi e Prestiti significa insomma poter nell'immediato futuro poter prospettare e poter pianificare ulteriori attività di ricerca necessari a poter rendere il nostro processo del vetro sempre più attraente, sempre più innovativo e sempre più altamente tecnologico. Grazie per la visione!